Ciao a tutti, vediamo due modi per aggiornare velocemente i driver della scheda video. Allora, il primo, aprite qua in basso e scrivete gestione dispositivi, eccolo qua, apriamolo. Ci si apre questo bellissimo pannellino, voi scendete finché vedete schede video, eccola qua. Avete la vostra scheda video, tasto destro, aggiorna driver e poi fate, cerca automaticamente i driver, quindi andrà online e ve li scaricherà. Altrimenti, se avete ad esempio una scheda Nvidia come nel mio caso, c'è il programma apposito GeForge Experience. Quindi, andate su Google, scrivete GeForge Experience, andate sul primo risultato che è quello di Nvidia ufficiale, fate scarica ora, ok? Una volta che avete fatto scarica ora, lo installate, ho fatto un video apposta di un minuto su come scaricare e installare GeForge Experience. Una volta che avete scaricato e installato, vi si aprirà questa schermata, dovete crearvi un account Nvidia, va bene? Una volta che l'avete fatto, vi trovate esattamente su questa schermata, chiaramente avrete giochi diversi dai miei, probabilmente. Vi basta andare su driver e vedete che io l'ho installato recentemente, pochi giorni fa. Vi basta fare cerca aggiornamenti, voi fate cerca aggiornamenti, ma in realtà se c'è un aggiornamento nuovo, ve lo dà qua su questa barra. Vedete, su questa barra qua dove io già l'ho installato, vi darà install aggiornamento, voi fate install aggiornamento, scarica e installa. Proviamo a ricercare, vedete? Ho già tutti i driver aggiornati più di recente. Automaticamente Nvidia vi farà comparire qua in basso a destra delle notifiche per dirvi hai dei nuovi aggiornamenti da installare. Comunque vi basta che lo aprite di tanto in tanto, vedete se c'è qualcosa da aggiornare e siete a posto. Ecco qua, secondo me questo è il modo più veloce, più comodo e interessante rispetto al primo che vi ho fatto vedere. Comunque questo è quanto, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!